Un cordiale saluto da Alessandra Broglia e da Eurocomunicazione. Siamo qui nella sala caduti di Nasseria in Senato per la presentazione del libro di Gianluca Bucci, Danilo Bascucci, I colori dell'inclusione, edito da Serarcangeli, Integrazione, Famiglia, Impresa. Ecco i nostri autori. Una visione più che olistica per definire anche l'inclusione per la disabilità, giusto? Certo. Uno dei temi toccati nel libro è sicuramente anche la disabilità. Cosa si è pensato? Si è pensato proprio di, in questo caso specifico, di interrompere il concetto vecchio di diversità e di indirizzarlo verso il concetto nuovo di inclusione. Cioè includere le diversità dove la forza è proprio nelle diversità. E secondo lei, dottor Bascucci? Il concetto a cui vorremmo, ovviamente, indirizzare l'attenzione è quella di poterci concentrare su quello che le persone hanno da offrire e non su quello che non hanno. Ognuno di noi ha una potenzialità più o meno espressa, ma la facilitazione di poter indirizzare il concetto di inclusione verso le potenzialità positive di ognuno di noi sarà sicuramente un passo fondamentale verso l'obiettivo che questo testo si prefigge. Grazie